E inizia questa grande partita Cacciatura Allora, cacciatura Comincio questa partita, io devo cacciare Ti sente solo la mia amore Nooo Ti avevo, ti avevo solo Agganciato Annaggia Qua è stata la situazione, cari Ah, ah 350-340 Sto vincente Di 10 punti sto vincente Non troppo Potrò occupare La tua squadra 360 Sto vedendo ci sono dei personaggi Che sono vestiti un po' male Nooo L'altro è Bannaggio Due ne stavano sbagliando Che palla Sì Chi è che... Cosa sono questi... Sti suoni qua che è là? Ah Sei tu Sei tu Sei tu Oh, devo... Oh, devo... E' una presa per il sedere Proprio l'urida presa per il sedere Sì 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 Sistema Cosa E' sta vincendo Sta vincendo Che miiir Dove cavolo sta? Eh... Bastante Eh, mombo Non lo so bugia, ho provato, ho visto però sei stato bastato, che hai trovato un gruppo uguale al tuo e mo? si ero indeciso e stavo nella fase un minuto al termine si ci stavo per prendere l'altro 2.500 madonna che m'ho travestito da skipper travestito da skipper come bastardo si è finito questo primo tempo terminato passiamo al secondo round nascondino nascondino nascondiii nascondiii 7 uccisioni come ieri ieri 7 uccisioni giochiamo a nascondino riusciremo a fregare andrìo e si Oh Oh Sì Via Scappa ancora Aiuto Sì Via Via Stavamo scappando tutte e due Sì Via Ancora Dai Dai shaman Non fai una delle temanze Via 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 Sì, vai! Aiuta! Ce la sto facendo! Sto campando a vita! Vado! Vado! Sì, aiuta! Dai! Dai, sciampano! Dai! Stai campando a vita! Un minuto al tempo! Sì! Con un salto! Stordimento in salto! Non so neanche come ho fatto! Questa cosa non pensavo che era possibile! No! 30 secondi! Antenne! Oh! Finisce così! È finita questa grande partita! Immune! Lo sciamano vive in eterno! Vive in eterno! Un pl criar con l'ambiente! Even per bu... Usata questa!" Si, tu Bunny자! È一个. 以上! Lo sciamano vive in eterno! N mant…. Fui! Å добр. Import. N santéinking! Vamos!